26 decessi odierni nelle Marche, nelle ultime 24 ore, età media 79 anni, con il 95% di patologie pregresse, tranne un 55enne di Fano e un 75enne di Pesaro. Il dato sale a 503 persone decedute dall'inizio dell'epidemia da coronavirus in regione. Il più anziano aveva 93 anni ed era residente a Mondolfo, mentre il più giovane un 44enne di Gradara. Continuano ad aumentare le persone contagiate da Covid-19, ricoverate e poi dimesse dagli ospedali, sono ora 210, mentre coloro che sono guariti dal virus risultano negativi al doppio tampone, sono 29. E quanto emerge dai dati del Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie? Il totale dei ricoverati nelle Marche salgono a 1.152, di cui 168 in terapia intensiva, 296 in semi-intensiva, 532 in reparti non intensivi e 156 in area post-critica. I positivi in isolamento domiciliari sono attualmente 2.304 su 3.962 casi di contagio registrati, mentre coloro che sono in quarantena in casa dopo il contatto con persone positive vanno verso 4.7.000, 6.904 totali, di cui 2.060 asintomatici e 4.844 asintomatici, tra i quali 793 operatori sanitari. I casi di contagio nella provincia di Pesaro e Urbino hanno raggiunto il numero di 1.722. 1.174 sono registrati ad Ancona, 506 a Macerata, 263 a Fermo e 224 ad Ascoli Piceno, 73 invece extra regione. Grazie a tutti.